Musica Si è conclusa oggi la seconda giornata di Forum Piscine con un intenso programma congressuale Musica È stata l'occasione per presentare la nuovissima edizione di Igiene in Piscina il libro edito da Lettrice al Campo Musica Reduce del successo riscontrato nel 2018 anche quest'anno è tornata l'innovation area all'interno della mossa i visitatori hanno potuto vedere da vicino componenti per piscina, centraline, accessori ultimi modelli di docce e di piscina in scala ridotta una vera e propria mostra dedicata alle ultime innovazioni e tecnologie del settore piscina e spa Musica Anche quest'anno a Forum Piscine è presente la mostra dell'Italian Pool Award il premio alla piscina italiana istituito dalla rivista Piscine Oggi sono state 41 le piscine candidate e i vincitori di quest'anno sono quattro per la categoria Residenzial Outdoor lo studio Land Design per la categoria Commerciale Outdoor preformata Italia per la Commerciale Indoor l'architetto Alberto Apostoli e per le biopiscine Milla Inoltre anche quest'anno abbiamo dedicato spazio al premio speciale Facebook eletto dalla giuria del web e il vincitore è stato Downia Cold con 788 like L'appuntamento è per domani per il terzo e ultimo giorno di Forum Piscine 2020 e il vincitore è stato D'Azionale 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 e il vincitore è stato D'Azionale